Credo che in qualche modo manca una progettualità, credo che al Sud manchi questa parola, cioè la capacità di metterci insieme, di saper condividere le energie e le eccellenze che abbiamo, quasi come una bestemmia è la parola emergenza, emergenza lavoro, emergenza criminalità, emergenza baby gang. Credo che bisogna abolire questa parola e mettersi tutti insieme, tutte le agenzie educative, istituzioni, comuni, la grande scuola, grande presidio di legalità, le parrocchie, le associazioni, tutte insieme per creare tavoli di coordinamento permanenti, non per parlare sui giovani, ma per dare parola ai giovani e a quello che loro vogliono dire a noi adulti.